La Veri dal 29 di luglio del 2020 annuncia che il problema della distribuzione per conto dei presidi di diabetici è pronta. Sono passati altri tre anni, tantissimi annunci, la verità è che la regione Abruzzo insieme alla Calabria e il Molise è l'unica regione d'Italia che non ha ancora questa possibilità per i pazienti diabetici e costringe tutti quanti loro a spostarsi dai comuni montani ogni 45 o 60 giorni per andare a ritirare nei presidi ospedalieri quello che serve per curare la loro malattia. Ma non è soltanto questo, è proprio il mondo della diabetologia che è in completo abbandono. La commissione diabetica che loro hanno istituito il 3 febbraio del 2020 non si è mai riunita dopo il Covid. Stessa cosa per la rete diabetologica, stessa cosa per il mancato rispetto di tutti quei medici, psicologi, podologi, dietisti che sono previsti dal PDTA approvato dalla regione Abruzzo di centro-sinistra nel 2016. Tutto in completo abbandono. L'assessore Veri fa un riferimento a una delibera numero 8 del 2023 dicendo che partirà un tavolo negoziale con le associazioni farmaceutiche per la distribuzione dei presidi. Ma in realtà questa delibera fa seguito a un grande profondo rimbrotto da parte di AIFA alla regione Abruzzo che ha uno scostamento, cioè soldi in più spesi per quanto riguarda i presidi medici di 86 milioni di euro solo nel 2021. E il trend è uguale anche per il 2022. La diabetologia di Pescara è stata spostata. In realtà ha compiuto 30 anni qualche giorno fa. Ringraziamo naturalmente i medici e il personale che da tempo si occupa di questo settore. Ma in 30 anni è stata spostata 5 volte e l'ultima volta è stata messa in via Rieti. Che cosa significa questo? Intanto problemi per chi deve andare in via Rieti che non trova assolutamente parcheggio e le persone diabetiche sono persone che hanno bisogno invece di muoversi nelle brevi distanze, almeno una buona parte di loro. Ma c'è un grande problema che riguarda la via Rieti. Chi si rega al pronto soccorso ed è diabetico per attendere una consulenza deve uscire dal pronto soccorso, essere dimesso e recarsi in via Rieti per affrontare una consulenza di un diabetologo. Altrimenti si deve accontentare di un internista. Ecco, questo è lo scandalo della regione Abruzzo. Solo tre regioni in Italia, l'Abruzzo, la Calabria e il Monisie, non hanno il sistema di distribuzione dei dispositivi per diabetici attraverso il sistema delle farmacie o addirittura la distribuzione per posta. Una grave carenza di servizio necessario, utile, concreto per i nostri malati di diabete che sono oltre 100.000 nella nostra regione. E se pensiamo che la nostra regione è costituita da oltre 200 comuni delle aree interne, pensiamo alla fatica, ai sacrifici dei malati e delle loro famiglie per avere ogni 45-60 giorni i dispositivi necessari per curare la loro malattia. Abbiamo chiesto a questa giunta regionale, all'assessore Veri in maniera particolare, di riunire la commissione di diabete, di mettere in atto queste iniziative, ma da quattro anni non abbiamo nessuna risposta. Insieme ai colleghi del gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato due documenti in consiglio regionale per sostenere con forza le associazioni dei diabetici poiché davvero hanno una grande necessità di avere questo servizio. In più c'è una grave carenza di personale all'interno dei centri diabetici della nostra regione, delle nostre ASL e per questa ragione chiediamo con forza la distribuzione dei dispositivi attraverso la rete delle farmacie nella nostra regione.